buongiorno amici sapete qual è il modo migliore per tenere un microfono allora il microfono è stato progettato per essere impugnato su questa in questa parte questa questa parte del microfono è stata fatta apposta per essere impugnato ma io ormai vedo tutti quanti molto spesso i cantanti in giro specialmente i più giovani i ragazzi tenere il microfono così quindi mettere le mani sulla capsula e come voi sentite appena io metto le mani sulla capsula il microfono cambia completamente suono in pratica ho un'impennata sulle medie e quindi praticamente faccio impazzire i fonici perché ovviamente mi devono poi riequalizzare tutto il mio microfono quindi consiglio da amico cercate di mantenere il microfono in questa posizione cioè non vi avvicinate con le mani alla capsula cercate di tenere al massimo lo potete tenere così l'unica cosa che può essere interessante di tenere il microfono così è per quelli i ragazzi che fanno beatbox perché in questo modo aumentano le frequenze medie e quindi tendono ad avere un suono più adatto per fare ma a parte questa cosa particolare in cui può essere interessante mettere la mano sul microfono il microfono si tiene in questa posizione grazie ciao